Apre il nuovo bando della Prefettura per l'accoglienza profughi, la gara europea che chiuderà il 7 settembre a mezzogiorno. Valore per due anni, quasi 25 milioni di euro per un tetto massimo di 700 persone accolte, anche se al momento sono sotto i 500 quelli presenti nel Piacentino, numeri tutti diversi dai 1.300 migranti del 2017, al tempo in 92 strutture gestite da 28 società. Il prezzo massimo ora risale, dovrebbe essere di circa 24,50 euro, escluso il pocket money da 2,50 euro. quello che spetta agli accolti. I gestori rimasti dicono che con questa cifra sarà possibile reintrodurre servizi negli ultimi anni negati, come corsi di alfabetizzazione psicologo. Il prezzo nel bando del 2019 era di 18 euro per persona accolta al giorno, 35 nel 2018, ora circa 28.